Nella vastità dell'oceano della vita, i naviganti solitari si erguono come individui coraggiosi, affrontando le sfide delle onde tumultuose. La loro imbarcazione è la propria esistenza, e il loro destino è scolpire un cammino attraverso le avversità. In questa avventura solitaria, decidono di creare una cena con patate e salsicce, un banchetto di sapienza culinaria, navigando tra i mari delle proprie emozioni. Le patate, radici salde nella terra, simboleggiano la stabilità e la forza interiore, mentre le salsicce, intrecciate come nodi intricati di esperienza, rappresentano la capacità di affrontare le sfide con determinazione. Insieme, questi ingredienti diventano la ricetta della resilienza, la via del marinaio singolo che, anche di fronte alla solitudine dell'oceano, trova nella preparazione del pasto un rituale che connette mente e cuore. Nel caledoscopio delle stelle notturne, il cuoco solitario naviga attraverso le fasi della preparazione, risolvendo ogni difficoltà come un navigante che traccia rotte nelle correnti avverse. La sua cucina diventa una nave maestosa, solcando i mari della solitudine con una determinazione inarrestabile. E quando il pasto è pronto, la tavola imbandita diventa il porto sicuro, un luogo di condivisione e connessione. Così, nella metafora di questa cena, il navigante solitario supera le tempeste della vita, trovando nella creatività culinaria la risposta ai misteri del suo viaggio. E mentre solleva il bicchiere, brinda la forza interiore che lo guida, navigando verso l'orizzonte luminoso dei legami umani e delle avventure condivise. La vita da single può offrire molta libertà e indipendenza. Si ha la possibilità di prendere decisioni senza dover considerare le esigenze di un partner, godersi il tempo in modo personale e concentrarsi su interessi individuali. Tuttavia, può anche comportare momenti di solitudine o la mancanza di supporto emotivo immediato. È importante trovare un equilibrio che porti soddisfazione personale. Creare una cena con patate e salsicce è un'ottima idea. Non solo è un pasto delizioso e confortante, ma anche relativamente facile da preparare, il che può rendere l'esperienza culinaria più rilassante e divertente. Condividere un pasto è spesso un modo fantastico per relazionarsi con gli altri, sia che tu stia cucinando per amici, familiari o anche per condividere il cibo con vicini di casa o colleghi. La preparazione di un pasto insieme può essere un'attività divertente e coinvolgente che favorisce la socializzazione. Inoltre, il cibo ha il potere di creare un'atmosfera accogliente e condividere una cena può essere un'opportunità per conversare, ridere e creare ricordi positivi. Quindi, sì, la tua idea di creare una cena con patate e salsicce sembra essere un modo strepitoso per relazionarsi con le persone giuste e rendere i momenti di solitudine più piacevoli. Buon appetito!